Leggo il testo sui verbi, due o tre locazioni iniziali, la prima, il pronome come soggetto nelle terze persone non può mai essere lui o lei, ma deve essere egli o ella, o esso se è una cosa, perché qualcuno di voi ha scritto lui o loro, questa cosa è un errore grammaticale in italiano, non ve l'ho segnato l'errore, però fate attenzione perché è proprio un errore bruttino secondo me. Seconda cosa, qualcuno di voi me l'ha data in ritardo, state attenti alle consegne anche perché ci sono dovuto ritornare sopra adesso, chiaramente stateci un po' attenti su queste cose qua, adesso non avete così tanto da fare o comunque avete i tempi molto dilazionati, è chiaro che un minimo ci dovete stare attenti. La terza notazione è che qualcuno non è stato molto molto attento a fare il test, nel senso che si vede, che ne so, ha sbagliato la persona, ha beccato il tempo ma ha sbagliato la persona, ora francamente se sbagliate la persona su una terza, ce l'avete messo una prima o il contrario, sembra che l'abbiate fatto un po' così, non con grande serietà. Metteteci tempo e francamente io mi aspetto che vengano bene questi testi, perché se voi non sapete la forma il sistema corretto è andare a guardare sulla grammatica. Avete tempo, non ve l'ho messo a scadenza, quindi non avete un tempo molto stretto per farlo. L'ultima cosa è che dall'italiano io vi ho dato dei verbi molto frequenti, quindi dovete impararli a memoria, sono 16 verbi, imparateli perché soprattutto questo vale per la prima. Dall'italiano non vi avevo messo il significato e lì qualcuno ha sbagliato il significato perché sono i quattro verbi tipici che usiamo sempre, cioè laudo, monio, leggo e audio. Quelli dovete sapere, non potete aver dubbi. Allora, cominciamo. La prima, acepisset, terza persona singolare, più che perfetto è congiuntivo, quindi che egli avesse ricevuto, avesse ricevuto andava tutto bene, tutto il resto era sbagliato. Seconda, iubeat, con l'a è un congiuntivo della seconda coniugazione, terza persona singolare, quindi che tu, egli, scusate, che egli ordini, andava bene tutto, vedete che io ho segnato giusti vari significati, state anche attenti a questa cosa, io ve l'ho detto, segnate, vi avevo dato anche dei crismi per mettere la risposta, nessuno ha ignorato, se vi ho detto che dovete mettere la minuscola, avete messo la maiuscola, è il contrario, avevo detto non usate il che, l'avete usato uguale, stateci un più attenti perché ci metto il triplo, correggio. Inveniet, finisce con la e, non con la a, quindi è un futuro, è un futuro della quarta coniugazione, sempre terza persona, quindi sarà, troverà. Qtabant, questo è facilissimo, imperfetto, terza persona plurale, quindi pensavano. Viceramus, questo perché siete un po' addormentati, questo è il suffisso del più che perfetto indicativo, questa volta, che si attacca al tema del perfetto, del verbo vinco, vinco, vincis, vici, victum, vincere, e questo è, avevamo noi, vinto. La sesta, relictus sum, il soggetto è sicuramente un maschio perché il participio è al maschile, la persona è sum, la cosa importante è che voi facciate il perfetto, quindi sono stato abbandonato e non sono abbandonato come potrebbe, un italiano potrebbe tradurre, ma sono stato abbandonato oppure fui abbandonato, qualcuno credo abbiamo anche tradotto fui stato abbandonato, cioè il trapassato remoto del passivo, l'italiano è praticamente scomparso. Tutto questo andava bene, il resto, il verbo è relinquo, relinquo, relinquis reliqui, relictum relinquere. Quindi, re di derunt ha composto il verbo dare, infatti vedete che dentro c'è il didi, dide, che viene da do, das, de, di, datum, dare, e vuol dire restituire. Questo è, si vede che ha un perfetto sia dal tema del perfetto che è qua, re, do, do, indietro, sia dalla desinenza caratteristica della terza persona plurale, eru, e quindi è restituirono, che è un pochino assomiglia anche alla nostra desinenza. Hanno restituito va bene uguale, ok? Ebbero restituito va bene uguale, ma insomma è molto desueto. Tra han, dal verbo trao, trarre, tragano, e che essi tragano. Qui c'è poco da dire. Siverim, ora qui è dal verbo scio, sapere, suffisso del perfetto, con la desinenza della prima persona. Questo qualcuno se sbagliato, sembra un futuro anteriore, per chi non l'ha ancora fatto lo faremo. Per la terza e la quarta qualcuno se sbagliato ha scritto, avrò scritto, ma se fosse scatto l'autoscritto avrebbe fatto sci, ve, ro. E qui vuol dire io abbia saputo, ok? E ricordo ai più grandi è l'anteriorità rispetto a un tempo presente. Parares, ora, questo, vedete che c'è il suffisso dell'imperfetto congiuntivo, con la seconda persona, che tu preparassi. Il verbo paro vuol dire preparare, non parare. Alcuno ha scritto parare, guardate sul vocabolario, ma fra l'altro l'avevo pure scritto sopra. Vi ricordate che qui vi avevo detto, questo è molto semplice come verbo, perché se sembra l'infinito più le desinenze. Movebit, col caratteristico bit, che è il suffisso del futuro della prima e seconda coniugazione, e quindi è muoverà, dal verbo moveo. Moveo, move, 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 dedisti, questo è praticamente uguale all'italiano, perché l'italiano è de, desti, quindi è saltato la prima, dal verbo do, das, dedi, datum, dare, dedi, diedi in italiano, perfetto di diedi. Chiaramente qualcuno può anche aver scritto hai dato, così ti fa anche il trapassato, ma non mi piace un granché, comunque. E vuol dire chiaramente dalbo dare. abeat, che avere, abbia, praticamente lo stesso verbo in italiano, ma gli manca l'h, davanti la ti, chiede la seconda coniugazione, terza persona singolare, col congiuntivo di nuovo, congiuntivo presente. Possunt, composto dal verbo sunt, quindi avete la terza persona plurale del verbo sunt, e poi il suffisso pot, che davanti a s diventa pos, e in italiano fa possono, possono, basta, cioè questo è molto semplice, ricordatevi che questo è un composto del verbo sum. fuggent, e caratteristica del futuro, perché se fosse stato un congiuntivo avrebbe fatto fuggent, e quindi è fuggiranno. ricordatevi che la terza e la quarta coniugazione hanno questa e caratteristica, mentre nella prima e nella seconda coniugazione c'è bobis. misis, sente dal verbo mito, mitis, misi, missum, mittere, mandare, e questo è il congiuntivo più che perfetto, terza persona plurale, lo vedete, terza persona plurale, e questo è il suffisso, isse, e davanti avete il tema del perfetto, mito, mitis, misi, nevate la disinenza della prima persona e avete il perfetto, e quindi è essi avessero mandato, che essi avessero mandato, eccetera, eccetera. Ricordo per i più grandicelli, questo è l'anteriorità rispetto a un tempo passato. Voi loderete, quindi è un futuro, però il verbo lo, laudo, in latino fa laudo, non fa lodo, perché qualcuno ha scritto lodo, l'ho dato giusto uguale, ma fa lodo, come fa audio e non fa odo, e avete il suffisso del futuro, la terza persona, la seconda persona del plurale, e poi avete il tema di laudo, quindi laudabitis, che essi abbiano ammonito, qui vi avevo messo anche essi, perché chiaramente volevo farvi capire bene che fosse la terza persona plurale, quindi terza persona plurale, e poi avete il suffisso del perfetto congiuntivo, perché questo è il perfetto congiuntivo, e poi chiaramente essendo un perfetto al tema del perfetto, monio, mones, monui, monitum, monere. Leggeste, quindi qui, chissà se tutti l'avete beccato, andiamo a vedere, sì, più o meno, dai. Chiaramente è la seconda persona del perfetto, quindi avete il tema del perfetto, lego, leggi, leggi, lectum, leggere, e poi dovete mettere la desinenza. Che tuoda, ovviamente, ascoltare non è odiare, qualcuno mi ha messo odiare, non ho capito bene perché, e quindi è congiuntivo in italiano, la seconda persona, e quindi seconda persona, vocale, tematica del congiuntivo presente, e poi audio.